Noi siamo orgogliosi di essere quotati alla Borsa di Milano, faremo la nostra parte perché la Borsa di Milano sia quella che può essere, che già è, ma che ancora più può essere. Questa è la squadra che rappresenta tutta quell'altra, che ci circonda e che mi riempie di gioia. Vogliamo anche noi, attraverso i limiti, essere tra quei tanti italiani che non si accontentano dell'oggi e vogliono spingere il nostro Paese più avanti. Ragazzi, firmo? Grazie. 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 Grazie.